Ciao Carmen Ciao Armando Carmen! Buongiorno Ti ho portato la colazione, posso entrare? Sai benissimo che non puoi entrare A partire da questo momento hai un minuto di tempo per uscire da questa casa Dopo aver depositato quelle cose sul tavolo Grazie Il cronometro è già partito, Carmen Che ordine Carmen, non entrate nella mia camera da letto Con questa bella giornata, scusa 37 secondi, Carmen Sì, per aprire le tende E certo Per entrare un po' di sole No? 20 secondi Sono le foto di quella sera? Sì 15, 14, 13, 12 Che bene tavolate, tutti questi dolci 11, 10, 9, 8 Qui c'è qualcosa di strano, l'avete notato? No, dove? Qui dietro al tavolo C'è qualcuno C'è, c'è Vado a prendere la lente di ingrandimento La lente di ingrandimento Sai cos'è? Guarda, ci sono gli occhiali, un naso, una mano Sembra, sembra un bambino Un bambino? Un bambino con gli occhiali